Dopo una fugace visita nella campagna elettorale delle scorse politiche, Raffaele Fitto torna a Foggia per parlare della riorganizzazione di Noi con l'Italia. A fare gli onori di casa Franco Di Giuseppe, il sindaco Franco Landella passato per i consueti saluti, il consigliere regionale Giannicola De Leonardis e tanti simpatizzanti. Fitto evita le polemiche e guarda dritto ai prossimi appuntamenti elettorali. All'interno del centrodestra per costruire un progetto politico che possa consolidare un lavoro iniziato con le elezioni politiche che non ha avuto oggettivamente per quanto ci riguarda un risultato molto positivo ma che alla luce della presenza molto radicata sui territori e anche della voglia di impegno da parte di tantissimi amministratori, di tanti amici che sono impegnati all'interno del consiglio regionale e anche delle amministrazioni locali di ripartire per dare il nostro contributo. Ci sono anche le amministrative l'anno prossimo per esempio a Foggia, quale sarà la posizione? A Foggia, a Bari, per citare le due città più importanti insieme a tanti altri comuni, un turno elettorale molto importante alla vigilia delle elezioni regionali e insieme alle elezioni europee, quindi mi sembra che siamo di fronte ad un passaggio per il quale c'è da lavorare per tempo e per consolidare l'unità del centrodestra anche qui. Luigi Vitali la settimana scorsa ha detto a chi voleva lasciare il partito per guardare la Lega di considerare la sua fuoriuscita dal Forza Italia che non avrebbe portato a suo dire gli effetti sperati. Lei come replica? Guardi, io non devo replicare né polemizzare con nessuno, noi stiamo lavorando guardando la prospettiva. È evidente che nell'ultima campagna elettorale e politica per ragioni oggettive, non ho alcuna difficoltà, lo abbiamo fatto pubblicamente, non abbiamo ottenuto un risultato che era in base alle nostre aspettative, ma comunque il nostro percorso politico è sempre stato costerato da risultati molto chiari e positivi e da lì ripartiamo. Piuttosto magari l'occasione utile per poter lanciare un suggerimento è quello di evitare di inseguire le polemiche e gli scontri interni, ma cercare di guardare invece ad una prospettiva molto più ampia e unitaria.